L'Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari, come sapete, si occupa prevalentemente di beni immobili e di aziende sequestrate, per cui l'ingresso dell'amministratore giudiziario nell'ambito della procedura di sequestro è un fatto immediato, che avviene in pochissime ore e che deve immediatamente essere efficace. Per questo c'è bisogno di implementare gli strumenti che utilizziamo in senso semplice, concreto e anche controllabile. Il reddine reputazionale, a nostro avviso, studiato insieme a Edoardo Marotti, che ce l'ha presentato qualche tempo fa, è stato ritenuto uno strumento che ha queste caratteristiche e che quindi può diventare con grande facilità, come ho avuto modo di dire poc'anzi, un passaporto reputazionale che è oggetto di un ologramma immodificabile, un ologramma che non si può falsificare e che viene documentato attraverso le procedure che APART e Crop News hanno studiato e attraverso un rating che diventa ovviamente uno strumento da tenere nella cassetta degli attrezzi di ogni amministratore giudiziario nel quotidiano. L'utilizzazione pensata è quella di implementare il modello 231, il modello di organizzazione e gestione previsto dalla 231 del 2001, è una legge che ormai ha quasi un ventennio e che dovrebbe essere sempre più adottata anche dalle aziende presenti sul mercato normalmente.